amiche amici buongiorno mi chiamo marcello secco faccio questi video che riguardano il mondo delle moto perché ne sono appassionato quindi andrò a vedere un confronto fra due moto sulle caratteristiche tecniche se la cosa ti piace iscriviti al canale attiva la campanella perché ogni giorno appunto pubblico dei video quindi oggi volevo parlarvi del confronto fra cf moto 800 mt che è una moto appunto multiterreno confrontata con benelli trk 800 che non è ancora arrivata sul mercato le indiscrezioni la davano per metà di giugno anche se attualmente pare che il termine delle consegne venga spostato a quest'autunno se non addirittura all'anno prossimo quindi questa è un po la situazione però sono entrambe due moto che hanno riscosso molto successo presso il pubblico e anche sul mio canale vedo che c'è molta attenzione rispetto a queste due moto in particolare a benelli ma anche a cf moto quindi vediamo di fare un confronto e capire insomma quali sono i pro e contro dell'una e dell'altra cominciamo quindi dalla cf moto che vediamo qui nell'immagine eccola qui vedete e parliamo cominciamo a parlare del motore il motore è un bicilindrico da 799 cm cubici della ktm è lo stesso motore della ktm 790 adventure quindi con le stesse caratteristiche anche se i kart erano poi il marchio cf moto la potenza che è un'azienda cinese la potenza di 91,2 cavalli a 9.250 giri al minuto dal punto di vista ciclistico invece vi sono delle differenze naturalmente rispetto alla ktm perché sono diversi sia il telaio se il forcellone anche le sospensioni che che sono della caia ad esempio la forcella della kayaba da 43 mm così come i freni che utilizzano l'impianto brembo della ktm che però è stato sostituito insomma da un analogo la marchio 6 j j juan è comunque nella sfera della l'influenza di brembo perché è stato acquisito da brembo però non è firmato brembo insomma quindi con pinze radiali 4 pistoncini e dischi da 320 mm ovviamente le ruote sono diverse essendo appunto l'utilizzo più che altro di tipo turistico con qualche velleità fuoristradistica scusate ma sicuramente non come l'austriaca che appunto una ruota da 21 pollici in questo caso invece abbiamo appunto all'anteriore una ruota da 19 pollici questo bel colore oro e al posteriore da 17 pollici altra caratteristica molto interessante l'acceleratore ride by wire con controllo di trazione mappe multiple che includono l'abs cornering e il cambio quick shift quindi una moto da questo punto di vista completa anche lo schermo che è un tft con sistema navigazione gps all'avanguardia le manopole sono riscaldabili chiave keyless l'allarme di serie un impianto illuminazione a led oltre che a questa bellissima suite di borse in alluminio per quanto riguarda il modello appunto dal turismo complessivamente quindi un design vedete molto equilibrato una moto che anche imponente insomma dal punto di vista proprio così della percezione visiva il serbatoio per concludere 19,2 litri scusate e peso a secco di 218 kg tutto sommato neanche poi così elevato vediamo invece quella che è appunto benelli che è stata presentata eccola qui al salone eicma di milano del 2021 a novembre novembre scorso ed è nata nel centro stile benelli quindi stata sviluppata proprio in questo reparto di ricerca e sviluppo e a diciamo linee molto simili anche se è un po' diversa mi piace molto insomma rispetto alla trk 502 perché linee sono di fatto poi anche più leggere comunque cominciamo dal motore che un bicilindrico quattro tempi raffreddato liquido in questo caso leggermente più piccolo 754 centimetri cubici la sua cilindrata con una potenza di 76,2 cavalli 8.500 giri al minuto quindi una potenza più ridotta rispetto a ktm che d'altronde appunto al moto vi rispetto scusate cf moto che d'altronde utilizza un motore della ktm la distribuzione bialbero cam in testa con quattro valvole con un motore moderno e alimentato da un corpo farfallato da 43 mm la moto non è affatto piccola infatti viene dichiarato un peso di 226 kg però alcuni accorgimenti la rendono veramente slanciata infatti il serbatoio a 21 litri di capacità per vetro esteticamente grazie questa parte inferiore colorata di nero è stato possibile appunto renderlo molto gradevole anche appunto apparentemente piccolo la sella è incavata vedete molto bassa quindi rimane incavate il parabrezza molto bello completamente trasparente e che appunto alleggeriscono la parte interiore che è caratterizzata da questo puntale che si protende verso l'avanti sopra la ruota anteriore il risultato quindi è una moto filante però nello stesso tempo ha un aspetto vigoroso e esteticamente leggero quindi un bel veramente un bel design e richiama appunto le mitiche moto della parigi dakar nelle sue forme è una moto per progettata per essi facile utilizzo quindi semplice nell'utilizzo con una guida confortevole sia per conducente ma anche il passeggero anche queste maniglie vedete dove potersi tenere quindi tenuto in considerazione anche il passeggero il cupolino molto bello ampio regolabile con i paramani che vanno integrare la protezione quindi una moto anche protettiva insomma per quanto riguarda la guida con il maltempo e anche dei deflettori che appunto complessivamente garantiscono una buona protezione aerodinamica la sella spaziosa e il passeggero appunto è a queste due maniglie qui si vedono di fianco alla sella nella parte posteriore solo due se una sella poi in due parti distinte il telaio a traliccio quindi ha fatto a traliccio sì però con piastre in acciaio e privilegia l'agilità nella guida e anche le sospensioni sono volutamente confortevoli all'anteriore abbiamo una forcella marzocchi da 50 mm di diamo quindi piuttosto sostenuta con 170 mm di escursione ed è regolabile in tutte le funzioni posteriormente invece il forcellone in alluminio è controllato da un mono ammortizzatore che è regolabile nel precario con il freno in estensione con l'interposizione di leveraggi e un escursione di 171 mm impianto frenato della brembo con due dischi anteriore semi flottanti da 320 mm 4 pistoncini e al posteriore da 260 con pinza a un singolo pistoncino quindi una moto che si presenta molto gradevole come è andato il confronto ma secondo me così avendole visto insieme a voi eccetera posso dire una cosa che anzitutto la cf motor è caratterizzata dalla presenza la rivediamo qui del motore che è un comunque ktm derivato quindi del ktm quindi ha dalla sua un motore sicuramente così con un'immagine superiore conosciuto e poi con ktm sempre stata all'avanguardia dal punto di vista puramente estetico invece potrei dire che benelli si presenta con delle linee anche piuttosto innovative che a me piacciono molto e quindi direi che esteticamente più gradino che che cf moto non lo sia però se devo dire se devo fare una scelta sceglierei dal punto di vista estetico bene quindi alla fine io direi chi è interessato quanto uscirà bel cf moto c'è già è già in vendita costa circa 10 mila euro più o meno in quella fascia di prezzo è un prezzo abbastanza elevato sicuramente meno elevato delle concorrenti giapponesi e benelli si vedrà perché se manterrà un prezzo come ha fatto benelli con la 502 x e anche la 502 la strada quindi un prezzo concorrenziale potrebbe veramente vendere tanto dipenderà appunto anche dal prezzo che riuscirà a presentare al pubblico bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella per essere costantemente aggiornati qui sotto i vostri commenti sempre molto graditi ciao a tutti e buona serata